Facile venire dall'Italia in Grecia per fare la procedura di fecondazione assistita? Mi chiamo Elena Nazio, sono coordinatrice presso la clinica Envio, una delle maggiori cliniche in Grecia e internazionale. Accettiamo pazienti da tutto il mondo, anche dall'Italia. È troppo facile come procedura. Inizialmente dovete contattare con noi via email o via WhatsApp, qualsiasi più comodo, e poi noi contattiamo e forniamo tutte le informazioni necessarie riguardando la fecondazione assistita. Potete fare tutti gli esami preliminari e tutta la preparazione nel vostro paese e dopo dovete viaggiare in Grecia solo una volta per fare la procedura di fecondazione assistita presso la nostra clinica, rimanendo massimo sei giorni.